Ciao e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale di YouTube, io sono Federico Murero e oggi ti parlo della mia stagione agonistica 2023. Il 2023 è stato un anno di soddisfazioni, devo dire che è stato veramente una nata bellissima e vorrei ripercorrere insieme a voi quelli che sono stati gli alti e i bassi della stagione andando a vedere in una visione un po' più ampia quello che io ho pensato magari durante le gare o prima delle gare o il periodo di forma, come mi sentivo, insomma ci sono tantissime cose che si possono dire riguardo una competizione o un insieme di competizioni, quindi oggi volevo farvi capire un po' quello che pensa un atleta e andando a osservare quello che è stato fatto in questo anno appena trascorso. Ma per capire cosa è successo quest'anno bisogna fare un attimo un passo indietro al 2022 che è stato veramente un ottimo anno anche quello, lo scorso anno infatti sono riuscito a vincere le mie prime due gare di triathlon e questo mi ha permesso di acquisire molta fiducia in me stesso di capire le potenzialità che io stesso avevo, perché comunque sono tante ore di allenamento tutti i giorni che si compiono ed avere la mentalità giusta per poter esprimere al meglio il potenziale che si costruisce in allenamento lo si deve anche appunto al 2022. Quindi questo anno qui è stato un anno di crescita dove sono riuscito a imparare molto, come anche quest'anno nel 2023. Devo dire che però nel 2022 ho imparato molte cose anche per quanto riguarda le gare più importanti. Un esempio può essere i campionati italiani di triathlon sprint a Cervia che l'anno precedente invece il 2020 e il 2021 non avevo fatto prima per il Covid e poi per un problema che ho avuto al piede, una frattura da stress che mi aveva tenuto fuori dalle competizioni fino a settembre, dunque non avevo voluto iniziare nel 2021 subito con i campionati italiani e riprendere la stagione. E nel 2022 di fatto ho partecipato ai campionati italiani di triathlon sprint nella batteria Elite. In quell'anno sono riuscito a capire molte dinamiche che mi hanno permesso di crescere come atleta e come persona. Per quanto riguarda poi il 2022 ho eseguito le mie prime gare di olimpico che mi hanno permesso di capire che questa era una distanza adatta a me che si adiceva molto alle mie caratteristiche in quanto sono un passista, un forte passista che riesce a mantenere ritmi molto alti per periodi abbastanza lunghi di tempo. Quindi mi sono subito divertito nonostante nel 2022 ci fosse stata una gara al follow your passion che era il mio primo triathlon olimpico dove sono stato squalificato in un modo abbastanza discutibile si potrebbe dire per delle prolunghe che sono state giudicate non regolari quando in realtà lo erano. E vabbè questo è stato un momento di crescita dove ho capito che non bisogna lasciare nulla al caso e che l'atleta deve cercare di mettere tutto se stesso in quello che fa e cercare di controllare appunto quello che può controllare e non pensare a ciò che non si può controllare. Quindi anche questi sono stati momenti importanti, poi ci sono state altre gare di olimpico che mi hanno permesso di esprimere tutto il mio potenziale. Ma quindi passiamo al 2023, cosa è successo? A inizio anno io eseguo sempre la preparazione invernale con dei blocchi di allenamento molto importanti e all'interno di questa preparazione di allenamento da gennaio a marzo ci sono i cross che sono le corse campestri fatte a piedi intorno alla zona qui della Brianza ci sono due circuiti, il cross per tutti e il Brianzolo che permettono uno la domenica e uno il sabato di correre quindi si può scegliere dove andare e scegliere il percorso un pochettino più adatto alla richiesta che si vuole dare. A inizio anno ho eseguito una serie di campestri dove sono andato abbastanza bene comunque essendo in un periodo di carico non è ovviamente il periodo di forma migliore però le campestri sono molto utili perché danno un termine di paragone e permettono di fare ritmo gara e anche dei fuorisoglia che raramente si fanno in inverno altrimenti. Io conservo i pettorali delle mie gare da praticamente sempre da quando ho iniziato a fare delle corse amatoriali e sul retro mi piace scrivere quello che è stato il posto dove ho fatto la gara, la data, il tempo e come mi sono piazzato con eventualmente le sensazioni che ho avuto durante la gara. Io quest'anno nel 2023 ho fatto il cross di Canegrate, di Cesano Maderno, Lissone e Cinisello e sono sempre arrivato intorno alla dodicesima, sedicesima posizione assoluta con un buon piazzamento anche in categoria dal secondo al settimo posto quindi anche per quanto riguarda il cross non è andata male quest'anno quindi sono contento. Passando al duathlon di Barzanò, questo me lo ricordo molto bene e chi l'ha fatto se lo ricorda bene, il 26 febbraio 2022 è stata una giornata veramente fredda una certa alla mattina è iniziata a nevicare, è stato un allenamento molto mentale anche se il fisico doveva essere pronto perché comunque in questa gara in particolare di duathlon essendo collocata prima dei campionati italiani di Imola ci sono sempre i migliori e quindi è una gara a deltissimo livello. Qui io ho fatto il quindicesimo assoluto, terzo S1 e le note che mi sono scritto sono riguardanti la nevicata prima della partenza e insomma la sofferenza un po' del freddo durante la gara che si era accusata però è stata una gara sicuramente diversa dal solito e che chi l'ha fatta se la ricorderà molto bene. Passando alla gara di casa, il duathlon cross della Brianza 5 marzo 2023 è una gara per specialisti di duathlon cross vinta da Federico Spinazzè che è anche tra l'altro un ottimo triatleta quindi qui la multidisciplina è ai massimi livelli e ho fatto un buon non assoluto quarto S1 mi ricordo che il periodo di forma iniziava a essere buono il periodo di carico dava i suoi frutti nonostante comunque non avessi scaricato molto in questa gara qui avevo ottenuto un buon piazzamento. Come detto questo il pettorale del Brianzolo l'altro circuito cross qui ho fatto una gara karate Brianza il 18 marzo quinto assoluto con veramente un bel percorso queste sono delle gare a cui mi piace sempre partecipare perché con anche un po' di sole si riesce a godere appieno di quelle che sono le bellezze vicino a casa. Per passare al 26 di marzo il duathlon sprint di Piacenza ottavo assoluto qua mi ricordo che ho recuperato in bicicletta il primo gruppo da solo quindi riuscire a riprendere un gruppo davanti nonostante non stessero collaborando molto mi ricordo che ho fatto veramente un'ottima bicicletta e con questa gara ho avuto la consapevolezza di poter vincere una gara di triathlon anche in solitaria perché fino a quel momento ho sempre vinto o comunque piazzato le mie buone prestazioni con altri ragazzi in bicicletta quindi non sono mai andato via da solo e invece con questa prestazione in bici ho avuto la certezza che nei mesi successivi avrei potuto compiere una di queste imprese. Passando alla prima gara che ho pubblicato su YouTube il Triathlon Racing Story di Lignano questa gara qui non è andata bene e mi ricordo che purtroppo essendomi ammalato i giorni prima della gara non sono riuscito a fare quello che volevo il carico di lavoro era ottimo e avrei potuto compiere una bella gara anche perché mi ricordo bene c'erano sia Sarzilla che Petroni insomma il livello era veramente alto e riuscire a fare gara davanti sarebbe stato utile per l'esperienza che sicuramente nel 2024 vorrei cercare di ripetere migliorando appunto questo aspetto cercando di riuscire a stare davanti e a fare gara con i migliori perché è solo così che si migliora e si riesce a fare uno step successivo qui in questa gara al 22 di aprile ero arrivato 22esimo assoluto 12esimo S1 e mi ricordo che la frustrazione era tanta se andate a vedere il Triathlon Racing Story di questa gara qui capirete come nella fase finale del video esprimo il mio disappunto per una gara che è semplicemente andata male che è stato solo un punto negativo in un processo che andava verso il meglio passando al Follow Your Passion Triathlon Olimpico il 6 maggio 2023 questa gara che lo scorso anno come vi ho detto all'inizio video non sono riuscito a compiere purtroppo per il problema con il giudice quest'anno ho finito in quarta posizione assoluta e purtroppo qui se avessi avuto l'esperienza che ho adesso avrei sicuramente fatto una gara differente questo è stato un tassello molto importante nella mia crescita personale quest'anno perché mi ha permesso di avere ancora più consapevolezza nei miei mezzi io non ho mai fatto una bici così anonima come in questa gara e mi sono ripromesso di non farla mai più in tutta la mia vita una gara come questa potete andare a riferimento per il video per capire un po' di più di cosa sto parlando ma in linea generale non sono riuscito a esprimermi al meglio soprattutto perché non ho cercato di fare la differenza in bicicletta questa gara qui è quella che mi ha permesso poi di acquisire ancora più motivazione e anche consapevolezza per le gare successive passando a una gara che mi piace tantissimo il triathlon sprint di Salò il 28 maggio di quest'anno si è compiuto e ho fatto terzo assoluto questa gara è stata veramente bella perché mi ricordo ho cercato di fare la gara davanti e anche usare il più possibile cercando di vincere e così ho fatto purtroppo in bici non avevo ancora una gamba perfetta dato il periodo di carico che era finito da qualche settimana e mi sentivo un pochettino pesante anche nella corsa avevo una corsa sciolta e molto fluida quindi sono sceso con un vantaggio se non sbaglio di una trentina di secondi in T2 che però non sono riuscito a mantenere e pesavento è riuscito a vincere quella gara davanti a Bortolamedi che mi ha preceduto veramente di pochi secondi e questa gara qui devo dire che il prossimo anno mi piacerebbe vincerla è una gara che mi sta veramente nel cuore per quello che è il paesaggio e il tipo di evento il triathlon olimpico di J3 il 3 di giugno questa gara mi ha permesso anche qui di crescere perché nella fase iniziale del nuoto ho preso un po' troppe botte e non mi sono piazzato nella parte giusta del pontone e quindi anche qui esperienza sono riuscito da questa gara qui a imparare cosa significa mettersi in partenza nel posto giusto e cercare di non prendere botte cercare di stare il più avanti possibile nella prima parte del nuoto passando a Bardolino qua non c'è molto da dire in realtà perché è andata bene quindi passiamo ad altro il campionato italiano olimpico questa è stata una bella gara che purtroppo non mi ha visto nei primissimi davanti ho finito decimo assoluto e mi ha permesso di fare una bici con Statef e Barnaby che è stata veramente divertente una delle più belle della stagione però devo dire che se potessi sarei tornato indietro e avrei cercato di spingere ancora più forte il nuoto nonostante l'avessi fatto in soglia non sono riuscito a stare con il gruppo dei primi dato anche dalle condizioni del mare che erano veramente avverse passando al triathlon sprint di Lecco tra questa gara e quella precedente i campionati italiani c'era stato il periodo di camp a Lavarone molto interessante quindi un periodo di allenamenti che ho anche documentato qui su YouTube questa gara è andata bene sono riuscito a vincerla e riconfermarmi in quello che era stato il mio primo triathlon vinto lo scorso anno per passare a Cernobbio qua come abbiamo detto per il duathlon di Piacenza è stata la gara dove sono riuscito a vincere in solitaria questa è stata la prima dove ho veramente fatto dal primo all'ultimo metro da solo cercando di gestire le forze e eseguire tutto al meglio comunque si sa vincere non è banale anche perché bisogna azzeccare tutte le strategie e tutte le componenti che possono andare male per passare al T-Van Tri quindi il triathlon sprint di Gravedona questa è una gara veramente bellissima a me piace tanto con tanta salita una bici impegnativa, tecnica che ho vinto anche sotto la pioggia e quest'anno è stata ancora più bella proprio per questo motivo e il triathlon sprint di Porlezza la settimana successiva il 3 settembre qui sono riuscito in solitaria a vincere e anche qui non c'è molto da dire sono stato veramente contento soprattutto per anche il livello dei partenti perché c'erano sia De Marchi che Bonalumi il livello dei partenti nonostante fosse una gara bronze era veramente alto andando sempre più avanti nella stagione arriviamo al 10 settembre con il triathlon sprint di Val Madrera che sono riuscito a vincere quest'anno davanti a Micotti con cui avevo fatto la bicicletta insieme un bel triathlon che ho condotto con questa vittoria sono riuscito a vincere tutte le gare di Lecco e del Lago di Como e quindi ho vinto lo slam del Lago di Como passando alle gare di corsa il 15 settembre era un venerdì sera ho fatto un 10.000 qua non c'è molto da dire era un allenamento questo 10.000 per dire è importante come test utile per verificare il livello dove si è dopo la preparazione estiva e in vista delle ultime gare di stagione arrivando ai campionati italiani di Cervia qua al 30 settembre 2023 ho fatto il 19esimo assoluto l'ottavo S1 questa gara mi ha veramente permesso di capire ancora una volta come la prima fase del nuoto sia fondamentale e purtroppo in questa gara qui ho sbagliato quest'anno il piazzamento dovevo mettermi in un altro posto invece ho sbagliato e in partenza ho scelto una parte sbagliata meno veloce il prossimo anno cercherò sicuramente di migliorare questo aspetto il giorno successivo il primo di ottobre abbiamo vinto la Coppa Crono e qua non c'è molto da dire è stato un bellissimo risultato di squadra passando alla settimana successiva il 7 di ottobre ho fatto il mio primo triathlon olimpico non draft questo è stato un test per vedere un po' come riesco a comportarmi contro gli specialisti del no draft e devo dire che la differenza è tanta soprattutto in bicicletta con l'equipaggiamento giusto si guadagna veramente tanto tempo e la differenza è netta quindi in questa gara qui ho imparato proprio che la differenza nei materiali c'è ed è netta soprattutto contro atleti di alto livello arrivando al 14 ottobre il triathlon olimpico di Desenzano qua ho fatto una doppietta ho fatto il sabato l'olimpico e la domenica lo sprint dove ho fatto sesto e secondo queste due gare sono state interessanti e le ultime per quanto riguarda il triathlon della stagione erano veramente due gare di puro piacere e assolutamente da godere per finire la stagione di triathlon con due gare che fossero belle e per divertirsi comunque le gare in generale dopo i campionati italiani sono più per il divertimento almeno per quanto mi riguarda piuttosto che per cercare un risultato arrivando a veramente poco tempo fa il duathlon sprint di Manerba sono riuscito a vincere il mio primo duathlon sprint sono riuscito in condizioni avverse a vincere una gara contro specialisti non è proprio facilissimo da ottenere passando per il duathlon cross di Maleo che ho vinto e è stata una bella gara soprattutto per il team essendo stati premiati come terzi assoluti nel circuito cross ci siamo divertiti abbiamo fatto una bellissima giornata e dunque è stato veramente bello per quello il 26 di novembre quindi poche settimane fa c'è stata la stravilla santa dove ho corso il mio 10.000 è arrivato secondo come lo scorso anno e anche questa è un test come la strabareggia per quanto riguarda la metà di settembre questa a fine novembre è utile per capire dove si è nella preparazione invernale avendo fatto già qualche settimana di preparazione e in vista della parte più importante di preparazione invernale di gennaio e febbraio per quanto riguarda questo video è tutto fammi sapere se ti è risultato utile se sapevi quante gare un triatleta facesse ogni anno se hai delle domande scrivele pure nei commenti iscriviti perché è gratis e noi ci vediamo al prossimo video come sempre fai buoni allenamenti ciao 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 ciao